Uh, questo è bellissimo, questo è bellissimo raga, questo è la vita. Ragazzi, benvenuti su GasTube Drums. Oggi vi voglio parlare di uno degli argomenti, secondo me, più importanti per un batterista, che non è la solita roba, ok, ho suonato questo, questo lo faccio così, gospel chops e doppio pedal, eccetera, 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 ma voglio parlarvi di un argomento super, super sottovalutato, e cioè la postura, il fatto di sedersi in un certo modo, gli sgabelli e tutte queste cose qua, perché un batterista di solito cosa dice? Dice, vabbè, io mi siedo sul primo sgabello che c'è, me ne compro uno alle 10 euro, o mi siedo sulla sedia di camera mia, ma poi questa cosa crea un sacco di problemi. Quindi oggi voglio spiegarvi un po' di cose, anche insieme a strumentimusicali.net, che mi ha mandato questo pacco gigante, con all'interno tre tipologie di seggiolino. In realtà voglio anche provare un po' questi seggiolini perché sono molto particolari, non sono il seggiolino solito, che vabbè, vediamo tutti, ma me ne ha mandati tre, in modo tale da provarli, in modo tale da capire anche quanto cambia il modo di suonare e l'intenzione che abbiamo sullo strumento quando abbiamo uno sgabello. Quindi comincio però spostando questo pacco, sicuramente perché è grande, ok. Facciamo, come al solito, tre unboxing, incominciamo dal primo, mando la sigla e poi andiamo direttamente sullo strumento. Ho cominciato l'unboxing, come avete visto, ma ho aperto il pacco e non c'era lo sgabello che stavo cercando, ma perché mi sono dimenticato che i pacchi che mi sono arrivati da strumentimusicali.net erano due. C'era anche questo pacco della Gibraltar qua contenente il primo sgabello che avrei voluto farvi vedere. Quindi facciamo l'unboxing giusto del primo sgabello. Ammazza. Eccolo qua. Ah, questo? Ok, allora. Primo sgabello. No, ragà, questo era l'ultimo. No, questo non posso farvelo vedere subito perché è troppo una bomba, è troppo, è troppo, è troppo. Ve lo faccio vedere dopo. Eh, vabbè. Ragà, abbiate pazienza, ve lo faccio vedere dopo. Quindi, il primo sgabello che vediamo è uno sgabello Tama. Forse mi sono messo in riga adesso e riusciamo a fare un video fatto bene, giusto, con i prodotti giusti, nell'ordine giusto. Allora, chiavetta e sgabello. Questo voglio farvelo vedere per primo perché è uno sgabello semplicissimo e voglio spiegarvi un po' di cose su come ci si siede sullo sgabello. Qual è, secondo me, l'idea giusta di seduta. Questo qua è uno sgabello Tama super semplice che, appunto, funziona bene per tutti perché non ha un costo eccessivo però non è così male. Allora, l'unico punto debole che ha questo seggiolino e comunque lo rende anche più economico è il fatto di non avere la ghiera che ci permette di alzare o abbassare il seggiolino andando semplicemente a girare questo tubo. Ma questo è un tubo unico che, boh, è così, lo piazzi, lo avviti e sei a posto. Quindi, sgabello montato super semplicemente poi qui ci sono anche i fermi che ti permettono di non far muovere lo sgabello per niente. Toggo questo e metto l'altro e vediamo cosa succede. Ma, bello! Beh, allora, devo dire che questo Tama è veramente, veramente molto comodo. Questione seduta. Vediamo un attimo su questo seggiolino di cui non vi devo dire più di tanto. Questo è un seggiolino che va bene non costa tanto come vi ho detto, va bene per tutti. Per prima cosa non sedetevi qua in fondo al seggiolino perché è troppo scomodo non avete poi la possibilità di muovere le gambe come volete. Ma andate un pochettino più avanti quindi lasciate quelle 3-4 dita dietro al vostro seggiolino o anche un filo meno magari, però più o meno così in modo tale da protrarvi che è una parola che mi viene molto bene verso avanti non troppo non è che dovete andare a fare questa cosa qua però cercate di sedervi appunto verso la seconda metà del seggiolino in modo tale da essere poi pronti per suonare. Questione gambe questione angolazione delle gambe come potete vedere io non sono seduto così come angolazione delle gambe ma ho un pochettino di più di 90 gradi secondo me fate un po' di prove tra 90 gradi e un pochettino di più come sono messo io quindi 90 gradi sarebbe così praticamente io così ogni tanto suono ma non mi piace troppo mi piace essere comunque un filino più alto in questo modo anche così così sono un pochettino più basso rispetto a prima ma mi piace poi devo dire che questo seggiolino modificare l'altezza del seggiolino con questo metodo qua è veramente super semplice perché sviti tiri su riavviti quindi finita non devi stare a girare quindi ha un po' di pro e un po' di contro in questo modo dovete solo provare un po' anche i minimi cambiamenti come vi permettono di suonare sullo strumento io così devo dire che mi trovo molto bene e quindi suono più rilassato suono molto meglio e ho sempre la schiena anche bella dritta quindi seggiolino tama promosso ho un seggiolino normale questo fate mi raccomando quello che vi ho detto anche chi usa magari il doppio pedale fate questa cosa qua e non mandate a suonare troppo in alto perché sennò rischiate di farvi del male proviamo il seggiolino dopo che è questo qua ragazzi è il Kungen & Meyer ed è una bomba perché ha la seduta a triangolo non so come si chiami questa seduta che volevo provare perché molti mi hanno detto che è super comoda quindi adesso andrò a vedere come funziona soprattutto la cosa molto molto interessante di questo sgabello qua è che ha la modifica dell'altezza del pedale super semplice basta che tirate questo e potete cambiare l'altezza poi mollate e l'altezza si ferma quindi è super semplice da modificare l'altezza di questo sgabello vado a provarlo mi sembra un po' più duro rispetto a quello prima sì ma questo non è per niente uno svantaggio perché fa sì che abbia molta 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 più stabilità cioè quello morbido è comodo questo di sicuro ma questo un pochettino più duro che poi non è duro però è un pochettino più solido diciamo così mi permette di essere molto più stabile sullo strumento e soprattutto il fatto di avere questa questo sgabello triangolare non lo so praticamente mi dice già come devo posizionarmi sullo strumento poi ha un po' di infossature proprio per sedersi diciamo e quindi cacchio questo mi sento proprio bene sullo strumento perché sono inammovibile inmovi come si dice vabbè non mi muoverò mai dal seggiolino quindi cacchio bello è una bellissima sensazione ovviamente vi lascio tutto qui stato in descrizione proviamo a suonare bello però cacchio bello bello bellissimo bellissimo raga perché anche quando vado a fare dei colpi multipli di cassa oltre vabbè alla tecnica di cassa che ci deve essere ma mi sento proprio stabile anche le gambe sono stabili sul seggiolino su quello di prima anche ma non è la stessa cosa questo si sente proprio che è il passo successivo diciamo sto veramente seduto bene ma adesso vado a provare un altro seggiolino con un'aggiunta che è quello che vi ho fatto vedere prima cioè questo gibraltar qua avrò bisogno delle forpici o ce la posso fare no ce la posso fare è uno sgabello molto 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 particolare cioè per prima cosa è enorme e voglio vedere allora come ci si sta seduti mazza se pesa bello i sgabelli quando pesano vuol dire che sono belli piantati per terra belli e soprattutto questo per prima cosa come vi dicevo prima ha la ghiera quindi lo tiriamo su in questo modo qua e con questo raga non potrete mai cadere dal seggiolino per prima cosa con la ghiera andiamo a montargli il seggiolino sopra seconda cosa vedete qui che ha un buco non so se si può vedere bene con la luce ma questo buco in pratica serve per attaccargli un'altra cosa e cioè lo schienale io non ho praticamente mai provato un seggiolino con lo schienale quindi adesso voglio farlo subito proprio perché sono super curioso pesa tantissimo però raga è una figata è una figata il fatto che pesi così tanto allora alziamolo un po' prima cosa gira 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 allora vediamo intanto se l'altezza è giusta ok ci può stare magari un giro meno ha il vellutino che è una cosa raga non mi ero mai preso così bene per un seggiolino da da anche questo è in velluto molto bello raga questo seggiolino è la vita cioè non l'ho ancora provato ma già lo voglio lo voglio vado ad inserire questo come si fa così in questo modo per collegarlo e poi vado a collegargli lo sgabello qui sotto ok uh questo è bellissimo questo è bellissimo raga questo è la vita è fighissimo perché cioè ti tiene proprio allora appena ti siedi ti sembra che ti porti avanti lo sgabello però nel momento in cui capisci come funziona è una cosa ottima perché ti permetti di essere perfettamente dritto con la schiena lo devo abbassare un pelo perché per quanto mi riguarda è troppo alto gira 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 che figata questo è completamente diverso è completamente completamente diverso perché ti protrae avanti ti permette di essere sempre almeno ti sembra di essere avanti in realtà probabilmente quello che faccio io senza schienale è stare un filino troppo indietro con la schiena quindi questo mi corregge la postura bisogna farci un po' di abitudine all'inizio ma secondo me nel momento in cui si comincia a suonare con questo è veramente tutta un'altra vita poi ci sono tutte le regolazioni dello sgabello quindi posso anche abbassare o alzare proviamo ad alzarlo un po' ah così così ecco se lo alzo così effettivamente posso stare anche un po' un pochettino più indietro molleggiare un po' di più però io lo lascio basso se lo si lascia basso va a lavorare proprio sulla parte centrale della schiena la parte lombare com'è che si chiama così hai la postura corretta così hai la postura corretta boh ho trovato la mia via questo siggiolino raga della Gibraltar batte tutto batte tutto quindi ragazzi questo video finisce qua voglio ringraziare come al solito strumentimusicali.net perché ve lo dico sempre ma non potrei portarvi sul canale tutta questa roba io non avrei potuto comprarmi tre seggiolini per farli vedere e poi cosa me ne faccio tutti questi seggiolini ma detto questo ho scoperto veramente tanto con questa prova di oggi perché non mi aspettavo così tanta differenza tra un seggiolino e l'altro come vi ho detto il primo il Tama che ho provato è un seggiolino normale cioè un solito seggiolino di quelli che si comprano perché vanno benissimo ovviamente e hanno un budget un pochettino più contenuto diciamo andando su con le prove verso il Croningenmeyer o il Gibraltar che vi ho fatto vedere prima lì andiamo un po' su di prezzo però raga è veramente tutta un'altra roba cioè come si sta seduti su quel seggiolino lì e dicendolo penso è una cavolata come sto seduto su un seggiolino saranno tutti uguali e invece no invece no l'ho scoperto appunto soprattutto quando mi sono seduto sul Gibraltar è stato il Gibraltar forse si dice Gibraltar tra l'altro l'ho detto sbagliato per tutto il video ma non fa niente è tutta un'altra roba bisogna abituarsi un po' nel momento in cui ci si siede su un seggiolino nuovo ma i miglioramenti che può dare la giusta seduta sia proprio per una questione di salute sia per una questione di come si suona della sensazione che si ha mentre si suona è veramente assurda quindi vi consiglio assolutamente di provare uno di questi tre seggiolini vi consiglio di provare un seggiolino diverso da quello che avete se magari volete cambiarlo eccetera provate a prenderne uno diverso dal solito perché vedrete i miglioramenti vedrete che sarà proprio un'altra concezione basta non vi rompo più coi seggiolini oggi e quindi io vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è l'articolo vi ricordo che trovate tutti i link ovviamente e io vi saluto ricordandovi che ci vediamo al prossimo video vabbè non è che ve lo devo ricordare vabbè ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti